Amici del Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si conferma una giornata di venerdì piuttosto nuvolosa su gran parte della Liguria per l'afflusso di area più umida dei quadranti meridionali che accompagna una perturbazione in transito sull'Europa centrale. Dunque avremo anche la possibilità di qualche piovasco soprattutto sulla riviera centrale con temperature massime che non supereranno i 15-16 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, qui la giornata sarà variabile, nubi irregolari si alterneranno a schiarite in un contesto comunque asciutto. Sulla provincia di Savona invece avremo maggior nuvolosità proprio intorno al capoluogo con la possibilità anche di qualche goccia di pioggia. Sarà una giornata decisamente molto nuvolosa o coperta sulla provincia di Genova con possibilità di brevi piovaschi un po' per tutta la giornata. Anche sul Tiguglio i cieli saranno piuttosto grigi per gran parte del giorno con il rischio di qualche goccia di pioggia. E infine sullo Spezzino, anche qui molte nubi, possibilità di qualche piovasco in particolare sulle zone interne ma non escluso anche nei presti del capoluogo specialmente in serata. La giornata di sabato vedrà un generale miglioramento del tempo, ancora un po' di variabilità residua nella prima parte sullo Spezzino ma poi si apriranno ampie e schiarite un po' ovunque con temperature in aumento soprattutto a Ponente e massime anche oltre i 20 gradi. Domenica transita un nuovo rapido fronte che darà luogo invece a maggior variabilità qualche piovasco o breve acquazione soprattutto sulla riviera centro orientale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.